Allora io ringrazio tutti i partecipanti, tutti coloro che sono venuti alla presentazione di questo testo che effettivamente raccoglie un gran panorama di posizioni, di riflessioni di quella che può essere considerata La giovane pedagogia oggi. È un libro interessante e quindi come facoltà di scienza della formazione siamo particolarmente onorati ovviamente di poter avere qui da una parte gli autori del testo e poi soprattutto devo dire alcuni colleghi che ci hanno preceduto e che sono stati per noi coloro che ci hanno aiutato a crescere e ad appassionarci a questo mondo dell'educazione e della pedagogia che sul quale mi sembra in particolare la facoltà di scienza e formazione lavora. Quindi io do appunto il benvenuto a nome anche della facoltà a tutta la SIPED, do il benvenuto in particolare direi alla professoressa Eglebecchi, al professor Franco Cambi e non la vedo, ma anche alla professoressa Pinto Minerva che questo pomeriggio vedremo di salutare più degnamente. Grazie, buon lavoro. Grazie alla nostra preside e buongiorno a tutti e a tutti. diamo appunto inizio ai lavori di questa giornata e siamo appunto molto contenti di ospitare qui presso la nostra Università di Milano Bicocca, la nostra Facoltà di Scienze e della Formazione, questo seminario di studi, di ricerca, di confronto tra generazioni diverse di pedagogisti. L'idea originaria, come alcuni di voi sanno, di questo incontro nasce in particolare su sollecitazione della professoressa Eglebecchi e del professor Alessandro Mariani dall'intento di presentare al mondo pedagogico, agli studiosi, anche agli studenti, alle studentesse dell'educazione e della formazione, questo volume dal titolo 25 saggi di pedagogia che è stato edito quest'anno da Angeli ed è stato curato appunto da Alessandro Mariani con due saggi di Eglebecchi e di Franco Cambi. In questo volume, come fra poco vi illustrerà il curatore, il professor Alessandro Mariani, sono stati raccolti 25 saggi appunto redatti da pedagogisti più giovani accademicamente e che appunto abbiamo invitato oggi a condividere con noi le riflessioni che sono appunto state raccolte nel testo. A partire da questo stimolo originario si è poi appunto sviluppata l'idea di raccoglierci insieme più giovani e meno giovani accademicamente dal punto di vista pedagogico per ragionare insieme su alcuni temi, alcuni snodi centrali del dibattito pedagogico attuale. Infatti, come ha visto e vedrà chi leggerà il testo, questi saggi propongono un ventaglio molto articolato di riflessione intorno alla ricerca educativa attuale. E si possono notare proprio una serie di cambiamenti rispetto al modo di identificare gli oggetti pedagogici, di svolgerne la trattazione, di costruire connessioni con gli altri sapere rispetto a alcune tradizioni consolidate negli scorsi decenni. Quindi possiamo pensare alla giornata di oggi come una sorta di laboratorio pedagogico di confronto e di possibile elaborazione comune rispetto a fare appunto il punto su alcune linee di tendenza della ricerca pedagogica, su come gestire il passaggio dalla tradizione pedagogica a nuovi modi di pensare e di fare educazione e formazione oggi. E questo, anche leggendo i vari saggi contenuti appunto nel testo, si vedrà, e questo appunto risulta ineludibile nel momento storico, sociale così tumultuoso in cui stiamo vivendo. E questi saggi raccolti testimoniano proprio di questo momento così tumultuoso che stiamo vivendo a tutti i livelli, storico, sociale, eccetera. Il direttivo della SIP e del suo presidente, professor Michele Corsi, ci ha sostenuto e ha condiviso questo intento e di questo lo ringraziamo moltissimo. Così come ringraziamo l'editore Angeli che ci ha fornito il supporto grafico e ha contribuito anche ad alcune altre spese. Voglio ringraziare poi molto la collega dottoressa Stefania Olivieri Stiozzi e la dottoranda Claudia Pavan per il grande aiuto organizzativo che ci hanno dato, così come tutti gli altri giovani, stiamo parlando di giovani, li voglio ricordare, giovani dottorandi e dottorande che stanno aiutando qua in sala, che hanno comunque aiutato in questi giorni, Barbara Balconi, Gaia Banzi, Rossana Brambilla, Daniele Sartori, Michela Doronzo e anche gli altri che non sto nominando. Un grazie anche alla signora Barbara Veronesi che ci ha molto aiutato sugli aspetti logistici che come in ogni convegno sono estremamente importanti. Passo ora a presentare l'articolazione dei lavori della giornata di oggi. Quindi ora io a breve passerò la parola al professor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze che è il curatore del volume e che presenterà appunto nei dettagli il testo e poi successivamente parlerà la professoressa Egle Becchia e il professor Franco Cambi. In seguito io parlo alcune domande agli autori e alle autrici del testo che stiamo presentando oggi e quindi lasceremo del tempo affinché i 20-25 autori e autrici possano esprimere la propria prospettiva del proprio punto di vista per porlo appunto a confronto con quello degli altri. Alla ripresa nel pomeriggio la professoressa Mantovani introdurrà appunto i lavori del pomeriggio e seguirà poi la tavola rotonda coordinata dal professor Baldacci che coordinerà un confronto tra gli studiosi e i pedagogisti e le pedagogiste meno giovani accademicamente proprio a cui abbiamo rivolto le stesse domande che abbiamo intenzione di rivolgere ai più giovani accademicamente questa mattina in modo appunto da porre a confronto le riflessioni delle diverse generazioni intorno ad alcuni nuclei comuni. Infine il professor Gennari si scusa ma non ha potuto venire perché aveva degli impegni personali. Successivamente il professor Michele Corsi che è il presidente della SIPET e la professoressa Simonetta Olivieri che è la presidente della conferenza dei pressi di scienze della formazione dialogheranno con appunto alcuni grandi maestre e maestre della tradizione pedagogica italiana quindi la professoressa Eglebecke, il professor Franco Cambi, il professor Franco Frabboni e la professoressa Franca Pinto Minerva. Durante la giornata ci sarà anche un momento in cui offriremo un omaggio da parte della SIPET e comunque dei pedagogisti e delle pedagogiste italiane a questi appunto grandi importanti maestri della pedagogia italiana, maestri e maestre.